Ben ragazzi qui è Mark e bentornati in questo nuovo video Finalmente ci troviamo in questo video dove parleremo appunto dei 100.000 iscritti Da subito vi invito qua sotto in descrizione a vedere perché sono uscite finalmente le maglie per i 100.000 Questo qua è il logo e ci sono le magliette e le felpe Quindi correte qua sotto in descrizione c'è la campagna che durerà 15 giorni se non erro E compratele perché sono le magliette più importanti che abbiamo fatto sul canale a cui più tengo Perché hanno un logo bellissimo disegnato da Peo qua c'è il suo nome di Instagram che mi ha disegnato davvero bellissima Poi ci sono Eren, Marci, Tina, Tech, c'è Lino, c'è ci sono davvero tutti, tutti quanti Tutte le persone importanti mi hanno aiutato per crescere in questo percorso di 100.000 iscritti Vi ringrazio di cuore davvero a tutti quanti per ne parlerò a dovere E in questo video qui appunto parleremo quindi vi chiedo di prendervi 10 minuti di tempo Perché questo video qui non è niente di che parleremo appunto di questi 100.000 iscritti Parlerò appunto di queste persone che ho nominato anche di tutte quante altre persone che hanno fatto parte di questo canale E ringrazio davvero di cuore tutti quanti Lasciando stare questa storia qua delle maglie Cioè la prima cosa è ringraziare tutte quante le persone che sono iscritte a questo canale Esattamente ora siamo in 101.320 iscritti E dobbiamo davvero ringraziare tutti di cuore perché hanno veramente creduto in me Anche per un solo secondo nel premere il tasto iscritti No, 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 cosa stai dicendo? Premere il tasto rosso, iscriviti Grazie perché 101.000 persone è San Siro più l'erba che c'è sotto ecco Quindi è tanta ma tanta ma tanta roba, è tanta ma tantissima gente Quindi grazie ai corotti quanti Grazie per soprattutto tutti i tag che avete fatto su Instagram Per i 100.000 iscritti E tutte le persone che erano sveglie sabato mattina alle 10.15 Che era una scuola col counter che si aggiornava E alle 10.18 abbiamo fatto i 100.000 iscritti Questo video qui arriva comunque con una settimana di tardo Perché dovevo un attimo metabolizzare il tutto Aspettare il logo per le maglie Che comunque come ho detto sono sotto in descrizione E ho dovuto un attimo pensare a cosa dire in questi 10 minuti qua di video Perché poi 10 minuti? Non è per monetizzare tutto quanto Ma in realtà è perché poi la gente dopo due minuti di video lo chiude Quindi vi chiedo davvero di guardarlo tutto quanto In questo video qui appunto parleremo di questo percorso qua del canale Ve ho linkato anche sul canale Telegram Che un vecchio video Lo speciale tipo 4.000 iscritti dove parlavo appunto Se mai raggiungevo i 100.000 iscritti E direi a quel marco del gennaio 2016 Che siamo a novembre 2017 Ci siamo arrivati 100.000 Alcune volte fatevo ancora pensare che avrò il play button Con il mio nome Con The Mark scritto sopra E mi sento realmente male a pensarci Fidatevi perché è una cosa che ho sempre visto da altre persone E davvero da persone che sono da tantissimo tempo Come sapete Seguo me la godo Tipo Gabbo Da questa gente ancora prima che facevo i 100.000 iscritti E vedere quel play button anni e anni fa E ora poterlo vedere davanti ai miei occhi E nelle mie mani Con il mio nome sopra è veramente tanto ma tanto strano È come se uno di voi in questo momento che mi guarda Si sta facendo i cavoli suoi Tra un 3-4 anni arriva anche le 100.000 iscritti Credo che sia una cosa veramente tanto speciale A livello storico voi non conoscete tutte quante le persone Che in questo momento qui ringrazierò con tutto quanto il cuore Perché davvero Sono persone storiche Per esempio il primo gruppo che fecimo Che faceva sempre raduni In piazza Duomo Che c'erano Mara Cap Cassi Questa gente qui vi ringrazia davvero di cuore Anche tutte quante le persone che ai tempi dissavano Vi ringrazio anche voi di cuore Però Davvero era una cosa veramente speciale Perché noi avevamo pochissimi iscritti Ne avevo 100 di 100 C'era gente che ne aveva 1000, 2000 Marci ne aveva tipo neanche 10.000 Già facciamo i raduni in piazza Duomo Per incontrarvi E so che pochi di voi ci sono ancora Però per esempio So anche nominare chi Magari ancora mi seguo O non lo so Però vedo sotto in descrizione Una ragazza di nome Kat Che mi commenta tutti i video Da quando c'ho 800 iscritti E lei me la ricordo molto bene Per esempio farò altri nomi Tipo Caciotta, Capra, Lorcas Federico Girardi Che è il primo bomber Con cui ho fatto una foto in piazza Duomo Appunto a raduno Quando avevo tipo 200 iscritti Era una cosa proprio Oddio Pensarci ora è proprio veramente strano Sapere tutto quanto il percorso che ho fatto Poi ci sono tutte quante le collaborazioni Che appunto Sono riuscito a intraprendere Con Marci Che le parlerò alla fine di lui Poi grazie a lui ho conosciuto Eren Ho conosciuto Martina E Alice Poddish Che ringrazio di cuore Ringrazio di cuore Alice Ormai ultimamente ci sentiamo veramente poco Ci siamo persi di vista tutto quanto Spero che tu stia guardando questo video Perché hai fatto parte anche tu di questo canale Hai fatto parte anche tu Di tutto quanto il mio percorso Tutti quanti consigli che mi hai dato E nonostante tu abbia preso anche un'altra strada Ti ringrazio anche te veramente di cuore Per tutto quello che hai fatto per me Un'altra persona da ringraziare Che mi ha sopportato Che io sopporto lei Martina Kenny Con tutti quanti i viaggi che abbiamo fatto Negli ultimi due anni assieme Ti ho odiata Non ti ho sopportata Per la maggior parte del tempo Però grazie Perché comunque Anche tu sei stata una testa dura Che mi ha fatto capire Alcune cose E anche a come dormire In ogni post E si senta al mondo Con l'avvento del canale Con la crescita Intorno ai 3.000-4.000 iscritti Ho partecipato alla prima UHC Dove ho conosciuto Tano Ho conosciuto Iaco Ho conosciuto Tierless Soprattutto E anche di Tier Vorrei parlare nella fine Come con Eren Ma in quel gruppo lì che ho conosciuto Avevo conosciuto anche Emilio Charlie Già conoscevo Matteo poco prima E vi sto raccontando un pochino La storia del canale Spero che voi la stessi seguendo tutta quanta Perché magari è una cosa che a voi interessa Che sono cose che non sapete Ho conosciuto loro Soprattutto Tano, Iaco E Tec Che Non avevo mai parlato Non avevo mai avuto rapporti Tano mi è sembrato Soprattutto una persona molto strana Tec è una persona molto introversa Che col tempo Con gli anni Sono riuscito a conoscere E io caro Tec Spero che tu stia guardando questo video Ti ringrazio Perché sei davvero una persona Con un cuore d'oro E è bellissimo Sentiti sclerare ogni volta su TS Ed è qualcosa di davvero fantastico Conoscerti Sei davvero Che per chi lo conoscesse te Che è veramente una persona gigante Dentro Ha un cuore veramente d'oro Tano Tano è un'altra persona da ringraziare Perché abbiamo fatto dei viaggi clamorosi Io, Marce e Tano Siamo il trio Dei vecchi viaggi clamorosi Per Roma Tutte quante queste storie Quindi anche te Tano Per tutte quante le esperienze Che abbiamo fatto Tutti quanti insieme Grazie Se stai guardando questo video E poi Iaco Ringrazio anche Iaco Nonostante i vari diverbi Le strade che sono divise Mi sembra più che giusto Ringraziarlo Visto che anche lui Ha fatto parte di questo canale Mi ha dato dei consigli ai tempi Comunque ogni tanto Mi iscrive su Instagram Quindi grazie Qua era anche te So che magari tante persone Vero qui che aspettano Ma quando è che parla di Iaco Quando è che parla di Iaco E ringrazio anche lui Perché mi sembra più che giusto Ringraziare Iaco E dopo un bel po' di tempo Abbiamo raggiunto 10.000 iscritti Nell'aprile dell'anno scorso È stato veramente strano Perché è la prima volta Che prendevo un traguardo Così in modo importante Aprile dell'anno scorso A Romics Facciamo 10.000 iscritti Festeggiamo Tutti quanti insieme Tutte quante queste cose Poi Altre cose Altre cose bellissime Per poi Continare ad andare avanti nel tempo Poi col tempo È arrivata anche la Pixel All'anno scorso Abbiamo fatto un gruppo ancora più riunito C'era anche Matteo Charlotte Quante queste cose Ringrazio davvero tutti Anche loro due Intanto Intanto Si portava avanti Anche un piccolo gruppetto Sotto che eravamo Io, Tiar Chris e Anna Che era un gruppettino storico Chris è un ragazzo Tizio Per chi non sapesse chi è Chris È un ragazzo Che ho conosciuto Quando avevo 20 iscritti E lui commentava I miei video di COD I miei montaggi Che facevano 11 visual Dicendo che figata Tutte quante queste cose Perché era anche lui Infognato con questa roba Di COD E il mio canale Era nato solo per fare montage E a lui piacevano tantissimo E lui Diciamo che È una persona che ha sempre Creduto tanti in me E mi ha fatto piacere Anche aiutarlo Nesse periodo Magari un po' più Buio Dove credeva di chiudere Tutto quanto E soprattutto Cri Io te l'ho sempre detto Quanto io a te Tenga E spero di avertelo Dimostrato sempre Perché Molte volte È stato molto lontano Con te Ma magari Assolutamente Non per diverbi Ragazzi Comunque ve lo sto raccontando Ma perché Ognuno ha i suoi impegni Adesso Chris All'università Tutte quante queste cose Però Nel momento in cui Io ho avuto bisogno L'ho avuto bisogno Ci siamo sempre stasi entrambi E questa è una cosa Veramente importante Mi ha fatto sempre Un sacco piacere E un'altra persona È Anna Grazie nonostante Ci siamo divisi Perché comunque Anche lei In una piccolissima parte Ha fatto parte Anche lei Di questo canale Di tutte quante le cose A cui aspiravamo I tempi Quando avevamo 5.000-6.000 iscritti Insieme alla Pix Emo poi arrivata La Tabicraft E ringrazio soprattutto Tiar Per aver creduto in me In quel progetto E Leo Comunque Era una persona Leo è strano Raga Leo Leo Fai video Grazie Ha creduto in me Per far entrare La Tabicraft Era un progetto Veramente bellissimo Poi si è chiuso Come si è chiuso Per poi arrivare Dalla fine A Tabicraft A ora Che è stato un periodo Veramente tanto Ma tanto Tanto strano Perché tra settembre Ottobio YouTube è stato Molto difficile Per tutti quanti Soprattutto per me Che YouTube Mi toglieva 100 iscritti La mattina Per farne Durante la giornata 110 E alla fine Ne facevo 10 al giorno Però è una cosa Che si è fixata E È stato veramente Un periodo strano Dove ho capito Veramente tante Ma tante cose Quanto tenesse Tutto quanto Perché nonostante Tutti i vari problemi Ho deciso Di continuare Per la mia strada Con la testa Nucca Che ho sempre avuto E ho continuato Ad andare avanti Io sicuramente Ho dimenticato Tante 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 Ma tante tante persone Da ringraziare E chi sa Chi al mio fianco Realmente Chi lo è stato Sa che un grazie Va rivolto Anche a A tutti quanti loro Ma ho ottenuto Verso la fine Verso la fine Tutto quanto Tre persone Marci Tear Ed Eren L'ultimo Eren Non per importanza Ovviamente Lo ringrazio Perché è sempre stato Una persona Che Quei consigli Gli sapeva dare Al momento giusto E Con la giusta Ponderatezza Con la giusta voce Tutte quante queste cose Abbiamo sempre parlato Di un sacco di cose Io Eren E io simo davvero Ti ringrazio il cuore Per la persona che sei Ho tante cose Da dirti Te le ho già dette Tante ma tante volte Che non sto nemmeno qua A dire in video Però Grazie davvero Un'altra persona È Tiar 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 è stata la persona Giusta Nel momento giusto Sia su youtube Sia come persona Perché Nel momento in cui Gli altri comunque Facevano il gruppo Loro Avevano il loro vecchio gruppo Io e Tiar Eram lì Che ci guardavamo E diceva Uomo Cazzo Comunque noi Dobbiamo fare il nostro Dobbiamo spaccare Ma l'abbiamo sempre fatto insieme E Questa crescita Che io e te Abbiamo fatto insieme Comunque tu siamo cresciuti Un po' di più Ma siamo sempre cresciuti Insieme È stata una cosa È stata una cosa veramente bellissima Vederti fare i centomila Mi ha reso un sacco orgoglioso Come tu hai detto Che vedermi fare i centomila Ti ha reso la persona più felice Nel mondo Fidati Tiar Averti qua Averti a mio fianco Nonostante ci vediamo Veramente pochissimo Perché tu sei dall'altra parte D'Europa Mi rende veramente La persona più felice Nel mondo Perché fidati Sei una persona Veramente Tanto speciale E per ultimo Abbiamo tenuto Il bomber Per eccellenza Che è Marmi Marci Ci sono tante cose Tante cose Che voi non sapete Che abbiamo vissuto Io e Marci Abbiamo vissuto Tutti i viaggi Insieme Due anni e mezzo A sta parte A ogni fiera A ogni cosa Abbiamo condiviso A ogni camera Di albergo Di ogni fiera Abbiamo condiviso Il viaggio in America Abbiamo condiviso Tissime cose Che davvero Non vi immaginate L'emozione di arrivare in America Insieme L'emozione della prima fiera Il primo romics In cui Voi non lo sapete Racconto un particolare Che magari Marmi Sta guardando Si ricorda forse La prima sera di romics Quando avevamo fatto Tutti i video E queste robe Sono andate a letto E io fissavo il vuoto E tu A un certo punto Mi chiedi Non so come si dice Mi avevi chiesto Cosa stavo pensando E io ti dissi Lascia stare Te lo racconterò poi In realtà In quel momento lì Stavo pensando A quanto fosse Strano e magico Quel mondo Di youtube Stavano guardando noi Dall'esterno Perché eravamo veramente Piccoli come youtuber Rispetto per esempio A una me la godo Ai meets Che stava nascendo Ed era veramente strano Vedere la prima volta E io ho pensato Pensa ad avere Quegli iscritti Avere quel casino lì E adesso più o meno Ci siamo Perché comunque 100.000 persone Sono tante Le fiere sita Veramente in tanti Il games week È stato qualcosa Di assurdo Per la molla Di gente che c'era Ma tutte e quante altre fiere Come aromics Tutto quanto È un'esperienza Veramente assurda Che mi rimarrà Sempre addosso E io ringrazio Soprattutto te Marcio Perché sei il primo Che mi ha spronato A fare tutto questo In questo modo Siamo i primi Che ci siamo aiutati Quando abbiamo avuto bisogno Ne abbiamo passate Di tutti i colori Sei stata la persona Che mi ha sempre Aiutato Sempre stata al mio fianco Sotto ogni punto di vista E davvero Ti ringrazio il cuore Per tutto quanto Quello che hai fatto Che abbiamo fatto E abbiamo condiviso Io e te Io e te Anche Martina Con i viaggi O anche con Tiare Eren Tec E tutti quanti Gli altri Davvero Grazie di cuore A tutti quanti Voi ragazzi Vi ho raccontato Una piccola parte Di questo canale Ma ringrazio Veramente tutti quanti Quelli che ne hanno Fatto parte